Trasferta a dirpo consigliosa per l'Aglianese che domani andrà a far visita all'ambiziosa Albalonga. La formazione laziale è terza in classifica a soli 5 punti dalla leader Monterosi. Ha perso solo tre volte, ha la seconda miglior difesa del girone e non ha mai nascosto di voler tentare la scalata fra i professionisti. Sui colli albani però arriverà una squadra, quella nero-verde, che dopo molte peripezie sembra aver trovato la giusta continuità. Il team allenato da Francesco Colombini infatti e reduce da cinque risultati utili consecutivi, con due vittorie convincenti negli ultimi due incontri. Per quanto riguarda l'organico, non saranno a disposizione Rosati, per lui stagione finita, capitano di Vito squalificato e Zocco in ripresa da un infortunio ma non ancora pronto al rientro. Ci sarà invece il bomber Coralli al quale è stata condonata una giornata di squalifica. La squadra è in salute, ha sottolineato coach Colombini. I ragazzi stanno lavorando bene, così da proseguire sui livelli delle ultime prestazioni. Domani potremo capire se siamo davvero maturati oppure se abbiamo bisogno di altro tempo. Quella con Alba Longa sarà una partita tra due squadre che stanno bene, con la differenza che loro giocano più spensierati. Conosciamo quali sono i loro punti deboli e cercheremo di sfruttarli.